Giornata di sopralluogo qui al Partenio Lombardi. Intorno alle 10.30 alcuni delegati della società hanno accolto dipendenti dell'ASL, del comune di Avellino, della Questura e della Prefettura. Lo scopo è capire qual è la condizione dello stadio Partenio Lombardi. Sul fronte sicurezza è intervenuta la Questura dando il suo ok per il sistema di videosorveglianza e ai tornelli che sono stati rimessi a nuovo. Poi è stata la volta dell'ASL, c'erano delle manopole, delle caldaie da rimettere in sesso, c'era l'ascensore da rimettere a nuovo. Anche in questo caso tutto è andato per il meglio. Si è parlato della tribuna Montevergine Laterale. Sapete, questo settore strategico è stato oggetto di attenzione in questi giorni perché pare ci fossero dei problemi di sicurezza. Questi problemi evidentemente sono stati superati perché il delegato allo Sport, Giacobbe, ci ha confessato che bisognerà ottenere la planimetria, poi sarà tutto a posto. Bisognerà numerare quel determinato settore. Per cui è stato superato l'ostacolo. Si parlava di una possibile riduzione della capienza in tribuna Montevergine Laterale, ma questo problema è stato superato. Questa questione è molto importante perché si lega a doppio filo con l'apertura della campagna abbonamenti. Quando arriverà la planimetria si potranno mettere in vendita i tagliandi annuali. Delle linee del campo non si è discusso perché non erano oggetto di questa specifica riunione, ma è molto importante quello che ci ha rivelato Giacobbe. Giacobbe ci ha detto che probabilmente i lavori previsti per il prossimo 19 agosto, che dovrebbero andare avanti per quattro giorni, verranno addirittura anticipati. Questo per non inficiare l'esordio in campionato dell'Avellino, il 25 contro il Catania. Ci vorranno quattro giorni per terminare i lavori, poi bisognerà mandare l'incartamento in Lega. Come potete ben immaginare è difficile rispettare queste scadenze, ma Giacobbe assicura che ci sarà tutto l'impegno del Comune per anticipare i lavori, magari cercando di convincere la ditta assegnataria dell'appalto a lavorare anche nel periodo di Ferragosto.